Samaritani di Abaco Group, prego guadagni il podio, lei è il suo e l'ultimo intervento, poi io passo la parola al Presidente. Quindi a maggior ragione deve essere veloce. No, decida lei, la lascio libera. Bene, allora grazie infinite, grazie anche dell'invito. Io vi porto la testimonianza della mia azienda, Abaco. Abaco è un'azienda che fa digital transformation nell'ambito dell'agricoltura. Allora, e quindi tutti gli slogan che abbiamo sentito e che sentiamo sempre di agricoltura sostenibile, eccetera, sono i temi a cui noi cerchiamo di dare risposta. Diciamo che oggi il punto è assolutamente centrale perché c'è una sfida fondamentale. La sfida è che, se pensate, c'è una crescita demografica inarrestabile, quindi non fa bisogno di cibo che è inarrestabile e la terra è quella che è. E quindi c'è bisogno di aumentare la produttività. E c'è bisogno di aumentare la produttività in realtà molto di più di quello che sembra perché in realtà la terra non è questa. La terra diminuisce perché la superficie coltivabile diminuisce a causa dei cambiamenti climatici, erosioni, tutto quello che sapete. E in più l'agricoltura è uno dei maggiori imputati del cambiamento climatico perché comunque in termini di emissioni di gas serra, in termini di emissioni di cose, eccetera, eccetera, l'agricoltura contribuisce. Quindi c'è una sfida epocale. Questa sfida epocale fino ad oggi l'agricoltura ha cercato di aumentare la propria capacità e la propria produttività attraverso di nuovo a soluzioni che sono state sempre pesantemente ad impatto ambientale. Esempio tutto il tema della chimica, tutto il tema. Quindi la sfida di oggi è fare di più con meno. Fare di più con meno oggi attraverso la tecnologia è possibile. E noi facciamo questo, ci occupiamo di tracciabilità e di sostenibilità. Ora, lo slogan fare più con meno vuol dire poi entrare profondamente nelle logiche di tecnologia perché oggi via satellite possiamo verificare lo stato di salute di una coltivazione. Primo identificarla, poi verificare lo stato di salute di una coltivazione, poi fare un bilancio idrico e capire come ottimizzare le risorse idriche piuttosto che la chimica eccetera eccetera. Quindi oggi si possono fare grandi cose però siccome mancano 55 secondi volevo agganciarmi a un tema che non è semplicemente di quello che possiamo fare ma gli illuminanti interventi di prima che hanno tutti avuto un punto in comune e cioè quello di illustrare e quindi vengo anche forse un suggerimento per i gruppi di lavoro, illustrare come è necessario alla fine orchestrarvi degli ecosistemi complessi per fare un passo avanti significativo. E allora noi possiamo effettivamente ottimizzare la chimica, possiamo ottimizzare l'acqua, possiamo ottimizzare una serie di cose ma se non abbiamo un sistema intorno che ci aiuta ad evolvere in maniera, fatemi dire, sincrona, questo non avviene. Vi faccio l'esempio concreto. Se la domanda di cibo continua a rimanere quella che è oggi noi possiamo anche ottimizzare l'acqua però alla fine un avocado per essere prodotto in termini di impatto ambientale consuma 4-5 volte l'acqua di un chilo di pomodori e l'apporto calorico fondamentalmente è diverso ma non è corrispondente al consumo d'acqua. Se per darvi dei numeri quando parliamo di pomodori, un chilo di pomodori necessita di malcontati 200 roti litri d'acqua, un chilo di carne di manzo ne fa 15.000. Quindi se non c'è una progettazione di un ecosistema completo è chiaro che tutti i temi di sfida e di sostenibilità risultano monchi e risultano semplicemente un'ottimizzazione parziale. Grazie.